Ciao amicose e benvenuti in questo nuovissimo video! Oggi siamo qua forse sulla futura serie ossia Mario Sport Mix ovviamente questo è un gioco della Wii quindi siamo in compagnia di lo saluto ciao ok ma per chi abbiamo voluto fare questo Mario Sport Mix insomma per chi l'abbiamo comprato in pratica l'abbiamo comprato perché comunque questo gioco mi piaceva molto quando avevo la univecchia mi piaceva veramente moltissimo e visto che comunque appunto insomma c'era ancora c'era ancora abbiamo potuto imparare infatti abbiamo acquistato l'abbiamo acquistato proprio ieri scaricati download sul mini shop infatti qui sono tutte queste cose molto carine intomma queste è dodgeball ad esempio e cose varie quindi c'è appunto pallavolo pallacanestro dodgeball e hockey e noi io ho fatto soltanto dodgeball infatti perché appunto alla Wii ovviamente normale avevo un sacco di salvatà cioè un grande cosmo di robe beh però adesso non c'è quindi oltre a questo però ci sono anche i parti quindi pipino affame che è ovviamente di pallacanestro schianza manina che è di dodgeball bugger music che è ovviamente di pallavolo e botte da hockey ovviamente di quindi faccio decidere a papà perché io già so tutto quanto vorresti fare una partita amichevole su queste quattro o un party un party non lo so che roba è una cosa abbastanza veloce invece anche io voleva che durava 10 minuti ma facciamo un party dai vanno a chiudere tutti sport puoi decidere però pallavolo che quando ci ho giocato parecchi anni fa forse due tre anni fa e provo pallavolo è l'unico che conosco ok io infatti oggi mi sono divertita in realtà in realtà un pochino togiti tu lì sulla mia pitch ovviamente scegliamo pitch tu vuoi essere io? no te ne esiste no sto a vedere vedi non lo so Mario abbastanza guarda prendo Luigi che è più alto ok ok e poi ovviamente come quarto personaggio scegliamo proprio vedi io oggi mi sono divertita a fare il primo livello il secondo è il terzo quindi ti faccio decidere che ovviamente il terzo è quello più difficile ma questo qua secondo vai ciocavo b b oh yes oh yeah beh in teoria dovrebbe essere difficile ma non è per così tanto difficile in realtà è quindi andate per te forse vabbè per me non è che sai come si gioca ok sai come si gioca forse vai devi cliccare due sempre in teoria ah però beh questo eh palla volo quel coso spara le palle del tuo colore e quando è rossa vedi no è mia oh ti ho salvato la palla tua ma io che colore sono scusate il rosso oh per salvare quelle tue sto perdendo tutti i punti prendi quelle colorate ok ti danno molti punti lo ve lo faccio oh ok ti danno molti punti oh no l'ho persa oh ti ho salvato la tua palla e e ho salvato anche quell'altra tua oh prendila la tua eccola 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 devi prendere quelle colorate per fare i punti nooo io già stavo per terra là si ma devi essere mamma mia e dove stanno i riflessi scusami eh io l'ho persi prendi i monetini e che ti danni punti oh questo è venuto a me fatti tesi tesi sarebbe tipo tua moglie perchè tesi e lui io ti sono spesso capito oh 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 ok nooo eh ma parca miseria la palla no per poco ti salvavo la palla qui perchè ah ma è un picciolito oh cavoletti ma non è giusto e quando lo aprivo così BOOM perché è più difficile eh nooo devi prendere soprattutto le palle colorate perchè da più attenzione a quelle cose giganti oh qui sta au no no oh vai ne sa oh no l'ho presa eh beh prendi quella colorata eh beh però caccia tutti in teoria e vai e vai e vai e vai oh tutto qua è stata buttata con le rosse meglio io sono più vicine e più comodo no? se voi ci sono lontani non c'è problema ok finito è tipo un carrione quello che butta le palline abbiamo perso dobbiamo arrivare a 2800 e siamo arrivati a 1600 ma dai vogliamo riprovare? eh ma è impossibile allora vuoi provare qualcos'altro o? cioè dovevamo sommare 2800 tutti quanti 8 e 4 si mamma mia proviamo un altro non mi piace ok cioè non mi entusiasma un altro party? eh ma io volevo giocare a pallavolo che è l'unico gioco che conosco che poi non è che ci sto giocare tanto ora facciamo un amichevole un pallocco ok quindi ovviamente insieme eh quindi vieni si perchè non si amici niente non gli sto a fare tanto io eh io non gli sto a fare tanto io eh io non gli sto a fare togli ti amici ah scegli il tuo personaggio questo non mi piace non vedi qualcuno veloce eh ma è veloce eh veloce Mario? c'è tutto e tre uguali ah e e quindi vabbè vabbè esperto esperto no 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 difficile eh perchè esperto non ti dice niente ciò che metti difficile qual è? quello classico quello sulla strada classico quindi facciamo proprio una vera partita di pallavolo ovviamente se vi piace se vi potrebbe comunque piacere l'idea di una serie su mario sport mix appunto su questo gioco saremo molto felici di portarla basta che ce lo fate sapere perchè secondo noi comunque è un gioco molto molto bello dove si possono fare un sacco di cose ovviamente prima io ad esempio giocavo online poi dopo un giorno che ci giocavo online mi avevo tolto non ho potuto proprio niente però comunque ci piacerebbe portare una serie su questo gioco appunto è un peccato è un peccato visto che uno gioca comunque con la Wii anche con i giochi della Wii è strano quindi se volete arriviamo intanto a 25 mi piace dai ci arrivate lo so che ci arrivate ci arrivate tutte le serie lo spero appunto speriamo anche in questa attenzione che ca... ha colpito la rete 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 tu mi devi stare dietro quando facciamo un muro perché potrebbe succedere questo ok la prossima volta in un momento qua sicuramente tocca wow faccio te tieni questa banana la fate stimolare no ho salvato la palla possiamo fare questa mossa speciale per salvare la palla anche se la mossa di pitch speciale fa cagare non fa un tubetto mi piace col manco e più o meno vola perché devi fare oddio una cosa l'ultimo l'ultimo per favore quindi arriva a città perfetta proprio e li no o la sua parola no la vita di pochettino che diritto dai sono scivolando la brucia di banana e fuori io ho visto che sto andando e sto andando io ho tirato alla ed ha visto che stava addio se ci riesco faccio non vuoi no adesso viene una bomba e la riprendo e poi schiaccia mai no stai attento che questo ti aspira con l'aspirapolvere cosa ho pensato per pochettino hai fatto una cosa di sfortunato ti ho salvato e va prima sto fregato infatti vai eh se ti serve clicca 1 e 2 insieme non adesso ah pensa tu cosa stai cavolo no l'ha presa ti prendi una bomba eh eh presimenti attenda ma doveva che prenderi tu eh ma che stai prendendo la bomba io così nooo eh io non ho visto niente e dovevi stare dietro di me eh ho capito ma vabbè guardate pure tutti quella palla e vai cioè si è fatto pregare come una bananetta come una bananetta come una bananetta come una bananetta vedi questa cosa toguiti toguiti oh sono piccoli ma mamma se tu non la prendi come la faccio a prenderla se tu la mandata dietro e che è colpa mia un chilometro che è colpa mia è impossibile no se dietro la piccolina è ovvio che non la dirò bene oh che ne so quando stai a fare il muro che me lo sogno eh a volte lo fai a volte no eh scusa eh non è che lo posso fare sempre toguiti oh porca miseria mi sono buttata ma eh ma sono diventato più di crudo assieme l'ho tolto ma non no ma comunque è il mio cuore vai eh vai si accia BOOM lancio una perta ruina stavo facendo mure hai visto ho visto che palla effettiva ma anche i miei miei riuscito con una giravolta con una giravolta maia un po' una banana una banana una banana fa tutto il lavoro un'altra 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 metto dietro no no e poi bene adesso fai anche tu il prudo cerca di riprendere eh no la prendi papà e lo so e lo stavo spostando ormai era fatta però l'ho fregato uguale no no per poco sono riusciti vai eh maledetti vai 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 cavolo e stavolta ci stavo però eh ecco io adesso faccio sempre il muro ok almeno però tu devi stare sempre dietro di oh però di lato devi stare sempre dietro di me si no ecco ci l'ho fatto stavolta che fortuna che fortuna che fortuna e quindi set point e vai bene prova tu a fare il muro adesso io ti salto eh ero mancato jabbè una bomba tiè becca di questo bene si muove appesa l'hai mancato per poco e e e credo che viene in questa tartarezza eh mani tente e una schiacciata wow ho fatto una finta non ti ha pregato cavolo infatti adesso stavolta ma che poi ho detto che ho fatto eh si che strombolo da si c'è una tartaruga per rispetto ma fa ma fa oh sei rialzata oh no quella che ho fatto pure l'era anche mancata e vai wow hai fatto un muro bravo si e poi ah cavolo questa volta non ce l'hai fatta molto bene a fare il muro uh vai vai morite mare c'è niente cavolo attenzione cavolo che volevi farla hai fatto un missile dell'aria eh ma guarda l'aria tutti postellati eh no è impossibile là vai adesso se non l'ho rotto ora basta e vai oh mio dio si abbiamo vinto il set e vai e vai 17 mi sa stiamo 1 a 0 quindi cambio campo vai 17 a 11 cioè ci stavano recuperando ma comunque abbiamo fatto un bel set secondo me eh e io mi sto impegnando vai io sto sudando invece wow e fai grande il primo punto del secondo set bel muro eh del papà di aurora l'ho salvata l'ho salvata bene l'hai presa però oddio hai visto come ho schiacato una roba vai vai parca misera è pure sopra eh son bravi eh lo fa muro tutto spiare ma adesso una tartaruga rossa mamma mia stai pure a dormire però luci no oh cavolo molto facile ok pensavo di non riuscire a ridarla attenzione 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 cavolo son diventa una piccolina eh beh io dirlo poi si si io lo devo prendere perfettamente fai tu fai tu vai che sennò qua non la che passi a me lo trovo eh perca misera è una bomba ci ha tirato tu vai è perfetto si schiacciamo sotto rete perfetto abbiamo anche 4 monete quindi prendiamo punti 5 pubblici all'ora quanti stiamo? 6 6 6 6 e poi bravo adesso vi faccio diventare piccoli anch'io però eh beh uuu abbiamo pensato qui insieme ok oh cavolo è pure la pesa uguale eh incredibile non c'è niente da fare vai vai fai giuro eh vai una bomba fumo ma mi sa vengono vai vengono rimane ma mi sono non vengono 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 che succede Le reti di cattiveria proprio, pura, mamma mia, non ci sta veramente niente, non ho visto niente, non ho visto niente, non ho visto niente, anch'io, è fatta, si dorme, 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 adesso li faccio diventare piccoli, molto beccadina tesi, piccolina, e fai, l'ho sbagliato però, è fatta, non so, che fai, era piccola quella che era da dove stata? lei, infatti, anche se poi la stava prendendo Luigi, ma allora continuo la figura, vai, vai, no, ho avuto cliccare uno e due, ah, non ci ho fatto caso, per salvarla, questo non era impossibile, infatti ho cliccato io a ID però, ho visto che, uh, uh, cosa è successo? si era pagato, si era pagato, ah, 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 ah Cioè gli è andata sotto le gambe, vabbè così se no non giochiamo Così non giochiamo se no dai facciamo questi ultimi due punti E si va a posto No è pure a caromba No l'ha presa uguale, incredibile Poi gli ha ritirato proprio una bomba super sonica, ma adesso gli ha giocato io Si rialzano, ma non ci significa fare Beh, alla fin dei conti come ci rialziamo noi di rialzare Attenzione, attenzione Uh, bravo papi Bene, ma che stai facendo? No! Mi rifaccio un muro Ah! Una volta Devi pensarci tu Eccolo qua Wow! Abbiamo vinto! Cioè gli ultimi punti li hai fatti tu ma veramente bossuti E quindi abbiamo finito la partita e abbiamo vinto Yuhuuu Bella partita però è piaciuta Si infatti è stato abbastanza difficile e non abbiamo messo esperto Perché hai visto quelle cose rosa? Ti indicano dove sta andando la palla Ma l'esperto non c'è Ah ok Quindi è anche più difficile Ma comunque ragazzi Vediamo che possiamo fermarci con questo episodio Ovviamente vi ricordo che a 25 mi piace Spolliciate So che ci riuscite Perché ci siete sempre riusciti a tutte le serie Quindi so che ci riuscite 25 mi piace un altro episodio Comunque vedere che possiamo fermarci con questo episodio Lasciate un mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Ciao a tutti Ciao a tutti